Allora, quindi già vedete in collegamento Aldo Tornatore, relatore che ci prenderà per mano e ci guiderà oggi pomeriggio. Buon pomeriggio Aldo. ...cale orizzontale, vuol dire che io mando una sonda sulla quale ho una temperatura di 0 gradi, se la temperatura del terreno è superiore avrò sempre uno scambio, perché come vi dicevo prima, il caldo va verso il... devo fare il gran premio di Formula 1, lo spiego sempre in questa maniera, perciò mi compro la Ferrari, perché voglio vincere, soprattutto in questi momenti che stiamo... Soprattutto in questi momenti che sta vincendo realmente...